Dottoressa Enrico, nella scienza della giovinezza una notizia eclatante. L'invecchiamento si può bloccare, così? Si, si può bloccare non solo, si può addirittura invertire, perché il nostro organismo ha la capacità di rinnovarsi completamente. Tutte le cellule hanno la capacità di rinnovarsi, quindi di rinnovare gli organi, nel giro di due anni, quindi è possibilissimo. Ecco, prevenire, sempre è stato detto, è meglio che curare. Allora, un buon fisico parte da una buona alimentazione? Soprattutto da una buona alimentazione, perché è come quando costruiamo una casa e creiamo delle buone fondamenta, ovviamente la casa reggerà nel tempo. È inutile che noi cerchiamo di intervenire dall'esterno quando effettivamente dobbiamo creare un buon sostegno dall'interno. Quindi, un corpo giovane, un fisico giovane, un bel aspetto, un aspetto giovane, dipendono da un sano stile di vita, da una buona alimentazione, dall'attività fisica fatta con moderazione, almeno 3-4 ore la settimana, ed alcuni accorgimenti, alcune scelte che bisogna fare sullo stile di vita. Lei ha fatto degli studi anche sull'equilibrio ormonale. Ecco, questo balance è così importante poi per un corpo sano? Sì, è fondamentale, perché contrariamente a quanto pensiamo noi iniziamo ad invecchiare dai 25 anni. Dai 25 anni incominciano a manifestarsi i primi segni dell'invecchiamento che sono dovuti a un calo ormonale. Infatti, l'età massima che il corpo riconosce per procreare è 25 anni, poi ovviamente si è allungata. E quindi da qua incomincia l'invecchiamento, un invecchiamento che incomincia già a vedersi verso i 30 anni. Infatti, da 25 ai 35 anni iniziano i veri grandi cambiamenti. Però noi, con un equilibrio ormonale sempre ottenuto attraverso lo stile di vita sano, possiamo bloccare questo invecchiamento. Anche il peso che intorno ai 50 anni, soprattutto per le donne con il raggiungere della menopausa, può subire delle alterazioni, le donne ingrassano. Ecco, anche quello è un mito da sfatare, può rimanere in equilibrio e magari il peso di una volta è possibile? È possibile, certo, la tendenza si ha, è più difficile con il passare del tempo, però con l'equilibrio ormonale giusto, la scelta di vita, un'attività fisica moderata e costante soprattutto, si può tenere sotto controllo assolutamente il peso. Anche un'energia che a volte si tralascia, l'energia sessuale, ha la sua importanza per dare sprint al benessere psicofisico? Sì, quello è fondamentale, infatti proprio nell'ultima parte del libro ci sono proprio tutti i consigli che riguardano lo stile di vita, quindi le scelte. Una buona attività sessuale aiuta a rimanere giovani e soprattutto anche innamorarsi fa bene, innamorarsi fa bene perché addirittura è stato provato che può aumentare anche il quoziente intellettivo. Ci sono tantissimi consigli che noi spesso sottovalutiamo, l'errore principale per bloccare l'invecchiamento, sono messaggi che noi mandiamo al cervello e quindi al sistema immunitario e quindi a tutti gli organi del nostro corpo, è quello di dire ormai, ormai è cambiato il concetto di invecchiamento. Una donna oggi a 50 anni è come una quarantenne di ieri, una quarantenne è come una trentenne, una trentenne è come una ventenne, perché effettivamente chi segue uno stile di vita sano può ottenere dei risultati che sono fantastici. E io è quello che cerco di spiegare in questo libro, cioè studi che la gente non conosce. Ecco, lei ci dà anche dei segreti per ottenere dei capelli favolosi, è così? Sì, perché purtroppo la pelle e i capelli sono il primo sintomo di qualche cosa che non va e contrariamente a quanto si pensa, ad esempio, tutti pensano che i capelli grigi non si possono cancellare se non con la tinta, poi ad esempio non si può aumentare la crescita dei capelli, non si può aumentare il volume dei capelli, non è vero, si può aumentare il volume, si può aumentare la crescita dei capelli, addirittura si può invertire la crescita dei capelli bianchi proprio con un'alimentazione adeguata e nel mio libro ci sono proprio i trucchi per poterlo ottenere, posso dire di averlo provato su di me e posso dirvi veramente che funziona. I risultati si sono evidenti. Dottoressa, ancora l'ambiente, è vero che un ambiente in cui viviamo ma anche lo smog condizionano un po' tutto l'equilibrio del nostro corpo? Sì, lo condizionano tantissimo, soprattutto l'inquinamento, ma l'inquinamento dobbiamo pensare che non è solo atmosferico, non è un agente solamente esterno, l'inquinamento è soprattutto in quello che noi mangiamo, perché i cibi sono i primi, quindi io dico un'alimentazione basata soprattutto su cibi biologici, l'attenzione anche ai conservanti, l'attenzione a quello che viene usato per la preparazione, queste sono le regole fondamentali. Allora quando il corpo sarà più forte, ovviamente, più sano, con un'ottima alimentazione, noi potremo affrontare meglio anche quelli che sono gli agenti esterni. Poi, Ciliegina sulla torta, in questa sua scrittura può vantare una prefazione di un scienziata a livello mondiale, Luc Montagnier. Sì, sono molto contenta di questa prefazione, anche perché ne ho parlato con lui, quando un giorno parlando ho detto ma qual è il segreto per restare giovani? In fondo, anch'io prima ho scritto la dieta ormonale, tantissimi libri, però le persone poi vengono disorientate. Il vero segreto è l'insieme dei segreti, segreti che le persone non conoscono, perché ad esempio anche questo nuovo modo per poter curare i capelli, mantenere gli ormoni in equilibrio, ad esempio adesso esistono in commercio, entreranno in commercio, saranno in farmacia a giugno, delle barrette anti-aging, dove degli studiosi stranieri, inglesi, hanno studiato proprio questa composizione per permettere anche ai giovani, ai ragazzi di 30 anni che non hanno voglia di prendere, ad esempio, tutti questi integratori, di prendere una barretta magari al cioccolato e di mantenere intatti i loro livelli ormonali. Ci sono tantissimi segreti che però rimangono nascosti e le persone non sanno, pensano che per mantenersi giovani bisogna solo ricorrere alla chirurgia plastica, alla chirurgia estetica. Ecco, la chirurgia plastica estetica dà i suoi benefici ma ovviamente è un lavoro a metà se poi non si contribuisce con un stile di vita sano, con tanti piccoli segreti che lei ci sta dando. Certo, perché se il tetto della mia casa sta crollando, io sostituisco solo le tegole e non ottengo nessun risultato, ma dovrò rafforzare il tetto, quindi quando io ho rafforzato l'impalcatura della pelle, questo avviene attraverso uno stile di vita sano, ovviamente la chirurgia estetica e la chirurgia plastica avranno dei risultati che saranno straordinari. C'è la scienza della giovinezza con i segreti di un'eterna giovinezza, è così dottoressa? Sì, sì, con i segreti di un'eterna giovinezza, perché anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha proprio in questi giorni stabilito che l'allungamento della vita non ha portato assolutamente dei miglioramenti nella salute delle persone, quindi non significa nulla aumentare la durata della vita se non si aumenta la qualità, perché arrivare a 90 anni o 80 anni però immobilizzato su una sedia a rotelle o magari con una malattia degenerativa o non serve a nulla, noi vogliamo arrivare a 80, 90 anni e anche 100 anni però in forma e completamente attivi.